Innovare la formazione è un impegno cardine in alti se lo facciamo prevalentemente in due direzioni. Il primo è condividendo con i nostri allevi i modelli d'avanguardia sulla sostenibilità che i nostri ricercatori definiscono attraverso lo studio network internazionale e la ricerca applicata. Modelli scientifici che applichiamo direttamente anche nelle aziende clienti con cui affianchiamo il percorso di consulenza. La seconda modalità è attraverso la contaminazione virtuosa con il mondo delle aziende. Contaminazione che avviene attraverso un confronto costante con i manager che si impegnano ad affermare modelli sostenibili insieme a noi e che siano quanto più condivisi, capaci di essere win-win, vincenti quindi per i nostri allievi, vincenti per l'Ateneo ma vincenti anche per l'azienda. È in questa direzione che nasce il focus di sostenibilità di settore che rappresenta un'occasione per l'azienda di raccontare che cosa significa fare sostenibilità nel settore quindi condividendo rischi opportunità sfide. È un'occasione per raccontare come l'azienda ha declinato la sostenibilità nelle diverse funzioni ma è anche un'occasione per far lavorare i nostri allievi, far emergere nuove idee che possano essere da spunto per l'organizzazione. Ma non solo, è anche un'occasione per coinvolgere direttamente l'intera organizzazione e fare realmente contaminazione. Vengono coinvolti il top management dall'amministratore delegata alle prime linee ma vengono coinvolti anche i collaboratori che hanno la possibilità di accedere a questo percorso di formazione e hanno la possibilità di interagire con i nostri allievi con l'idea di stimolare e condividere prospettive diverse tra chi è già impegnato nel mondo lavorativo e chi a breve ne farà l'ingresso.